Wordpress è una piattaforma di gestione dei contenuti che permette di realizzare pagine web o blog personali senza conoscere codici di programmazione particolari. Si basa infatti su una interfaccia grafica che permette di realizzare pagine interessanti sia dal punto di vista grafico che dell'interazione con l'utilizzatore. Per realizzare un sito la prima cosa è collegarsi alla pagina di Wordpress. L'indirizzo è wordpress.com. L'home page di Wordpress propone tutta una serie di contenuti e tutorial per familiarizzare gli utenti all'utilizzo del gestore di contenuti. È possibile imparare a conoscere i vari componenti del software, dell'applicazione e imparare qualche trucco o qualche novità in modo da avere un sito in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Per utilizzare Wordpress è necessario avere un account che può essere creato direttamente da qui cliccando su Crea il tuo sito. Per cominciare è indispensabile inserire un indirizzo email valido, scegliere un nome utente ed una password. È possibile anche creare un account Wordpress utilizzando il proprio account personale di Google o di Apple. Una volta inseriti tutti i dati clicchiamo su Crea un account. Una volta eseguita la registrazione abbiamo creato il nostro nuovo utente. È il momento di scegliere il dominio per il nostro nuovo sito. Tutti i siti in internet devono avere un proprio dominio che è l'indirizzo che i visitatori digitano nel browser per entrare nel sito. I domini sono personali e possono essere acquistati accedendo alle pagine di aziende che offrono il servizio di acquisto e di gestione dei domini. Se abbiamo già un nostro dominio dobbiamo cliccare su Hai già un dominio e seguire le istruzioni che seguono. Con Wordpress però è possibile inserire un nome di dominio personale. Nel nostro caso scegliamo mioportfolio.wordpress.com per provare a realizzare un sito del tutto gratuito. Dopo un breve tempo di attesa Wordpress ha già creato il nostro sito web. Ovviamente il nostro sito non ha ancora un titolo e lo possiamo vedere qui in alto a sinistra. Non è collegato a nessun piano di gestione mensile, anzi prevede un piano gratuito e non contiene contenuti personali. Questa pagina, la cosiddetta dashboard, è la home page dell'amministratore del sito. Da qui è possibile gestire tutto ciò che riguarda il contenuto e anche però l'amministrazione del sito stesso. Nella sezione impostazioni vi sono alcune impostazioni sulla pagina. Per esempio è possibile cambiare il titolo del sito, scrivere una tagline, cioè una piccola descrizione e per esempio cambiare quelle che sono le impostazioni della lingua di visualizzazione e del fuso orario. Una volta salvato il titolo del sito, se aggiorniamo la pagina, vediamo che in alto a sinistra ora indica il sito il mio portfolio. Tornando alla dashboard, cioè la bacheca, vediamo quale altre opzioni abbiamo a disposizione. Innanzitutto Wordpress ci dice che ha creato un nostro sito e che il nostro sito comunque non è ancora online. Possiamo seguire i passaggi suggeriti dallo stesso gestore per completare la configurazione del nostro sito. Possiamo cliccare su questo pulsante per cominciare a modificare quella che è la home page del nostro sito. Quando ha creato il nostro sito da zero, Wordpress ha scelto una layout di home page che prevede una immagine orizzontale in alto con un titolo, un benvenuto, un po' di testo e un'organizzazione degli articoli o delle pagine, comunque dei contenuti, su tre colonne. Se questa tipologia di home page non ci piace, possiamo, dando su documento, cambiare il layout della home page. Per fare ciò, clicchiamo su Change Layout, scegliamo di rimuovere ogni customizzazione o edit che abbiamo fatto alla nostra pagina e Wordpress ci propone tutta una serie di tipologie di home page diverse che possono adattarsi a varie esigenze caratteristiche. Scegliamo, per esempio, questa proposta e vediamo che la home page è cambiata. Anche in questo caso, però, è organizzata per blocchi e l'organizzazione possiamo vederla cliccando su questo pulsante di navigazione tra i blocchi. In questo caso abbiamo un blocco di copertina, che è questo, e tre gruppi, uno, due e tre, che sono questo gruppo, questo gruppo e il footer. Ciascun blocco, poi, è ulteriormente diviso in sottoblocchi. Vediamo, cliccando, per esempio, sul footer, gruppo, vediamo che la sua struttura prevede uno spazio vuoto, delle colonne, ogni colonna ha un titolo, un paragrafo e un altro paragrafo sotto. Se, per esempio, clicchiamo su titolo, staremo modificando il titolo della prima colonna. Se clicchiamo qui, staremo a modificare il titolo della seconda colonna. La possibilità di modifica è direttamente a schermo, per cui, se vogliamo cambiare questa parola, possiamo fare doppio clic e inserire, per esempio, un altro tipo di testo e automaticamente verrà aggiornato. Possiamo anche cambiare il colore oppure scegliere un colore personalizzato e così, per sascun componente di un blocco, possiamo procedere per modificare e personalizzarne l'aspetto. Possiamo visualizzare eventualmente un'anteprima del risultato cliccando su anteprima. Questo sarebbe il nostro sito con l'immagine principale, con il taglio a onda e il testo modificato e col colore cambiato. Convertire in bozza significa che le modifiche vengono salvate, ma non pubblicate direttamente sulla web. Se clicchiamo aggiorna, invece, vengono direttamente aggiornate sulla nostra pagina principale. Torniamo alla nostra bacheca. Ora, qui ci dice che è possibile lanciare il sito perché abbiamo creato la nostra home page. Fino ad ora il nostro sito era privato e potevamo vederlo solo noi. Clicchiamo lancia il sito per lanciarlo sul web e renderlo visibile a tutti. Dopo aver lanciato il nostro sito, è possibile aggiungere del contenuto. Andiamo a vedere, per esempio, quali sono le pagine che WordPress aveva creato nel nostro sito. Aveva creato una pagina di blog, aveva creato una pagina di contatti, una di informazioni e la home page. Andiamo a vedere, per esempio, la pagina di informazioni. La pagina di informazioni è stata inserita da WordPress con un'immagine di default e ci spiega che questo è un posto ideale per presentare a te il tuo sito e includere i riconoscimenti. Questo è solo un esempio che noi possiamo modificare a nostro piacimento. Per esempio, cliccando sul blocco dell'immagine e su Sostituisci, possiamo andare ad aprire la libreria dei media, che in questo caso è vuota perché il sito lo abbiamo appena creato, oppure caricare un'immagine dal nostro computer. Possiamo modificare il testo o possiamo includere un nuovo blocco cliccando per esempio qui e quando desideriamo aggiungere un nuovo blocco WordPress ci fornisce tutta una serie di blocchi prestabiliti e con caratteristiche particolari che possiamo inserire in questa posizione. È per esempio possibile inserire un'interruzione di pagina o di paragrafo, un'immagine, un nuovo titolo, una galleria di immagini, un elenco, una citazione, un file audio. Decidiamo per esempio di inserire una nuova immagine e anche in questo caso possiamo andare a caricarla dal nostro computer, inserire un'URL se ce l'abbiamo già in qualche server oppure inserirla dalla libreria dei media. Abbiamo poi la possibilità di cambiare l'allineamento dell'immagine allineandola per esempio al centro. È importante, prima di cominciare a creare un sito web, costruire una specie di layout su un foglio di carta piuttosto che su un documento digitale in modo da aver ben chiara la struttura del nostro sito, sapere quante pagine, quante voci di menu e che tipo di contenuto mettere su ciascuna pagina. In questo modo sicuramente non perderemo molto tempo per creare il nostro sito e il risultato sarà più gradevole e sicuramente più fruibile da parte degli utenti. Grazie a tutti.